Il 20, 21 e 22 ottobre la città di Torino ospiterà il Social Festival Comunità Educative. Dal titolo evocativo e secondo noi molto bello, ci vuole una città per fare una scuola. Oltre a Torino saranno coinvolte le città di Moncalieri, Ribogli e Settimo Torinese, perché il festival nasce da un'idea della città di Torino e della città metropolitana, con la collaborazione della Fondazione Compagnia di San Paolo e della rivista Animazione Sociale. Tre giorni di dibattiti, convegni, reading, laboratori, workshop e anche cene, per confrontarci sull'educazione, sulla scuola, sull'istruzione e ovviamente sul presente e il futuro dei nostri territori. Tutti gli incontri saranno completamente gratuiti, basterà prenotarsi sul sito. Speriamo di avere un'altissima partecipazione e di poter trarre da questi momenti di confronto le linee di lavoro per il nostro presente e il nostro futuro.